Confermato. Non c'è bisogno di fare tanto casino. Questo ti farà tacere. Cercate di non lasciare macchie di sangue. Sono difficili da pulire. Le tue ultime parole? Non mi interessano comunque. Hai un problema da risolvere? Più fai veloce, meno farà male. La fortuna ti ha abbandonato. Ora te la vedrai con me. Hai un problema da risolvere? Le tue ultime parole? Non mi interessano comunque. Hai un problema da risolvere? Più fai veloce, meno farà male. Qui non è successo niente. Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Qui non è successo niente. Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Qui non è successo niente. Assumo le posizioni designate. Hai un problema da risolvere? Più fai veloce, questo ti farà tacere. Hai un problema da risolvere? Più fai veloce, meno farà male. Le tue ultime parole? Non mi interessano comunque. Assumo le posizioni designate. Hai un problema da risolvere? Più fai veloce, meno farà male. Le tue ultime parole? Non mi interessano comunque. Hai un problema da risolvere? Obiettivo avvistato. Questo ti farà tacere. Più fai veloce, meno farà male. Le tue ultime parole? Non mi interessano comunque. Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Le tue ultime parole? Non mi interessano comunque. Obiettivo avvistato. Ci vorrà solo un minuto. Obiettivo avvistato. Schwede avvistato. Ha! Ho! Grazie a tutti.